ehi la gente bentornati nuovissimo video oggi siamo qua su plug event con il nuovo aggiornamento e ha nascito solo una casa c'è questa e sono molto stanco perché sto provando tre volte ci sono nei video una una prima volta non me l'ha presa proprio nella galleria la seconda volta il microfono è una disattivazione e questa è la terza volta e speriamo che questa sia l'ultima volta perché noi lo voglio rifare un'altra volta allora abbiamo questa nuova casa che non c'è niente buoni e abbiamo questo cantello dove ci possiamo scrivere quello che vogliamo e abbiamo due antenate sono tempi ma quella più quella che hanno scoperto quel in un secondo gestione tutto questo pulsante si alza e entriamo in questo canaccio oppure nella seconda opzione che andiamo vicino al cantello e scendiamo qua e sono le scale e ci ritroviamo sempre nel canaccio abbiamo qua una porta ed è proprio una porta normale si bruccava neanche il capanello possiamo chiudere la porta e poi ci ritroviamo in questa stanza 20 con una scensione dobbiamo andare giù per un'altra porta e ci ritroviamo e qua ci sono molti segnetti allora qua c'è subito una cucina una libreria divano e sopra il letto è la stessa cosa di qua poi abbiamo qua tutti i comandi bla 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 il bagno che ci sembra si sembra fra pochi istanti però il distributore di coca cola che non sa cosa serve e poi abbiamo questo divano che ci sembra per trovarne la cassa fonte ma andiamo prima a un passaggio segnetto molto normale allora se andiamo qua possiamo prendere questa carta e se andiamo proprio qua nel bagno ci avviciniamo e stiamo in questo in questa stanza con dei copiuten e dei moniton e poi se saliamo qua sopra prendiamo la toncia se non vediamo niente e saltiamo un po ok andiamo qua dietro e siamo proprio sotto al canaggio e potete ritornare come avete fatto prima e questo è il primo segnetto per uscire mi basta di metterla accanto qua questo è il primo segretto ovviamente ci sono solo due segreti che sono stati scopenti sicuramente ce ne stanno altri però non sono stati alcuni scopenti abbiamo il secondo segretto è ultimo che abbiamo qua vicino al tivano per trovare la cassa fonte fate attenzione non sono uguali i divano cioè sono in questo divano vicino alla cucina quindi se andiamo qua siamo in questo posto dobbiamo attarne qua nel secondo tunnel e attarne qua a destra e se schiacciamo proprio questa parte qua questo angolo dove ve lo sto disegnando apre un passaggio che è questo e se noi abbiamo ottenito 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 poi ci andiamo a destra e abbiamo scoperto la nostra cassa fonte della cassa con con i soldi e tutte le cose sebbene uscine possa fare questa sanata lunga schiacciarne schiacciarne qua qua in questo punto della ponta non si vede neanche ma potete uscirne si uscite ad attenito qua a destra e qua c'è cosa cosa vende se potete potete uscire allora qua sopra i micnote c'è pure un'altra cosa però non è stato scoperto ancora nessun segnetto questo è il nuovo aggiornamento di brucca per la cassa vi fanno sapere se ci saranno altri aggiornamenti e segreti scompeti in questa cassa per questo video può essere tutto like e schiacciare con la campanellina attiva è bella